Dalla protezione civile alla digitalizzazione al Via Benevento presso il Centro La Pace, la tre giorni volontariato e formazione, iniziativa promossa dal CSV Irpini Asagno. L'obiettivo del Centro Servizi è quello di qualificare con la formazione proprio specifica i volontari che possono comunque avere delle risorse particolari che poi possono spendere nelle loro associazioni. Competenze che si punta così a trasmettere a tutti coloro che si avvicinano al mondo del volontariato. Corretta e anche qualificata perché sia i nostri formatori sono tutti qualificati e tendiamo anche ad avere un riconoscimento formale. Di qui la tre giorni di percorsi formativi e consulenze che si chiuderà domenica con la celebrazione dell'Assemblea elettiva del CSV Irpini Asagno. Attenzione pertanto alle nuove normative che riguardano il terzo settore come il Registro Unico Nazionale ma spazio anche alla pratica. Abbiamo deciso di puntare tutto sulla pratica quindi siamo partiti con una fase importante che è quella della logistica quindi oggi tratteremo montaggio di un campo, tutta la manutenzione di un campo ma soprattutto quelle che sono le regole stabilite dalla presenza del Consiglio dei Ministri dal Dipartimento della Protezione Civile. È importante perché in una fase di emergenza la prima azione che viene compiuta è la logistica quindi soprattutto l'accoglienza della popolazione e anche l'accoglienza dei volontari.